Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sreating forti Logo ATI撮ame Grazie Grazie Obvia Nah I am racist rologu no Ow That isn't me being That's not me being racist I This minority I can tolerate Immigrant Cocksucker I'm not that racist Like As racists go I'm not that racist But like compared to a non-racist I think I am racist They just got assaulted I'm a literal rapist We have fucked like multiple times Like we've been together for like Almost a year, you know And then now all of a sudden I find out you're 16 I like to rape people This is so bad My hot take is that Pedophilia Should become More No, this is not Normalized No! Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's move on Back to the top I'll be able to do my co-writer Because you're not And everybody I'll be able to do it I'll be able to do it I'll be able to do it I like to do it I'll be able to do it So let's go Grazie a tutti. Sì, 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 sì. non c'è non ne c'è no c'è non ne c'è no c'è una恨んでるんだろう no pericolere con non è proprio in警察いるんだけどこれ Sì, sì. Sì 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 Sì, mettiamoci l'occhio. Ci sono piaciute. Questo è Lien4. Lien4. C'è una chiamata? C'è una chiamata. C'è una chiamata? ah eens bravo imbrevo del bode Mio A presto Il mondo stagò che c'è il fatto C'è stato molto vecchio Iglò sa cosa che ne ha irà C'è Non ciò che mi sono qui Io ci sono qui a tolipo Ci sono riusciti Ci sono Ah non è Noi Non è oh la mia maggi mazza del suo Deri Deri ed Gio 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 268 Gio Ombra Gio 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 vediamo la Sì, sì, sì. Sì, non lo sopare! La propria di uscione non è possibile! Sì! Ah, non è possibile! Sì, ora ci vediamo! Sì, ora ci vediamo! Sì, ora ci vediamo! 50-94-1 Sì, ora ci vediamo! Sì, ora ci vediamo! Sì! Sì, ora ci vediamo! 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 Se vor��, è stato il rato! Non c'è il risultato? Sì, ora, non è stato nell'ubile! Non c'è alcune! Sì, ora ci vediamo! Perchè! Sì 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 회 Sì Sì Sì, non è vero, non è vero. mago e何かすごいなんかいや初めばっかなんですけどちょっとやっぱり学校 あー すごい心がねあってくれが初めまして あってるよ 届かないんだり会話をこのだっ だからなんか喋り方とかが似てたのかなんか 勘違いしちゃうこと 鉄王さんって人 ねえ この人にこの前その大型やったときに起こしてもらったんだけど うん その心配蘇生中に 救急隊らしかの言葉言われたよ なんて言われたのはいもう助かりません死亡でーすって 言われましたけど俺 どうなったんですかあの救急隊は まあ踊ってましたけどずっと やっぱやばい人だねー 鉄王さんの点とねーやばい人一応ねー俺その実は違うとこであって でその人と リンク同盟で作ってたんだけどね ね何を思ってるのがよくわからないあの人俺は 何考えてるんだろうね ね ではもう前前でぃ 昨日ぱんさんからいいんだけどねぇ 海田家が手を組んでるあの子 好き 非常に強いんだよって言っ バレバレです かふんだからやろうやた分 e da buono no se entro l'ioca me chacera al type no chiamo a a c'è c'è a c'è il ca c'è un ca c'è un c'è un c'è un c'è un c'è un c'è un ma Ok. Cosa dire... Ma... Gia quei tuassarono... Poi? Cosa domanda e... Cosa come uno da vicino? Cosa come uno, è il centro, questo... Il nostro 7039 è il faire piccolo... Wowah... Sì. ... plessi mosca難しいから tutto ioくやるなぁと思ってたまずいのに so you 時代があったんですねー maia ma no jocano話しはもしかしはまあ 久保環境とかなってもかもしれないなおい a ... ... ... ... ... ... Buongiorno! Ok, faccio sia Io voi stiamo Iro to si ne過, Let domus! Iro to si ne...